alto calibro trofeo guadagnato siamo già resort e si per forza martoriata proprio ci sono questi mitra con silenziatore bellissimo merda bella roba bel ginepraio adesso ragazzi i cani no le serpi sono queste le luci le serpi bello che poi il resort c'era anche a the last of us 1 veniva da laggiù presto chi cazzo c'è là fuori io fuori un altro certo che col mitragliatore è tutto più facile credo che a me piacerebbe usare anche questo sinceramente controllato niente avanti oddio no un randaggio di qua fuori voglio il cane io dov'è il cane ti troverò e zitto no il cane godo 8 munizioni di mitra è buono eh grazie per il martello tomo cos'è tomo e ci andranno belli vicini a ammazzarla spoiler e questo sarà un bel capitolone vai dopo l'ultima battaglia con gli infetti sicuramente questa è l'ultima battaglia con le persone della sto fase 1 finisce sulla neve questo finisce sulla spiaggia più bello di così cosa volete che poi il resort è enorme è gigantesco raga ok cosa posso fabbricare questo non ho ancora questi ce le ho fumage non ho però mi tengo questo poi vediamo non è che questi fanno gli agguati tipo chiedo perché potrebbe essere non è che molta paura raga molta molta paura fortunatamente non c'è un piano sopra per ora da ispezionare quindi possiamo dileguarci una molotov si può creare certo che più munizioni non farebbero proprio schifo raga adesso vorrei sapere dov'è chi mi ha visto ok là dentro bene quello c'ha il casco bastardo gli andrebbe conficcata in petto ma non è facile che roba che ansia più che altro si è lì è lei ok dove sono oh cazzo finite le munizioni fantastico raffica così come fai ok no il cane no dividiamoci e cerchiamo trovate l'apprezzo ah cazzo due persone vieni qui ok buono ottimo quella è andata dentro l'ha uccisa cazzo l'ho messa lì 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 tanto tu vieni qui ho fatto fuori il cane ho fatto fuori il cane valla a prendere prova deve aver chiudato qualcosa via eh per forza oh cazzo di qua ho detto il cane di merda ho perso l'esterno trovala bella ha trovato la cazzo cazzo merda le munizioni ok via c'ho più munizioni c'ho più un cazzo raga il cane è morto il che è una cosa buona dispiace dirlo ma ogni tanto va detto in questi casi va detto neanche ogni tanto sti casi appunto cercate stronzi cazzo ripeto come un cazzo di pappagallo io eccoli eccoli sono in due buono vedete praticamente tutte le armi vieni qui chiudi la bocca no munizioni no bullets no bullets va bene cazzi tuoi tanto sei morta quindi l'importante è quello credo ti piglio anche te e ciao la munizione di pistola wow ok Ellie non ha detto che sono finiti si l'ha detto ok perfetto cazzo il fianco dove sono i binari e a trovarli i binari zia non è facile comunque adesso mi fai rifiutare un secondo cioè non rifiuterei eh ok qui poco da vedere forse qua dentro si prendiamo questo che sicuramente ci evita di dover prendere per forza un kit medico ma sicuramente a breve lo prenderemo munizione di pistola oh sto carico mi piace poco vuol dire che ci sarà qualcuno a breve chi ci darà parecchio fastidio raga me lo sento gli infetti no vi prego dai è anni che combatto infetti anche Ellie è anni che combatte infetti vi prego un po' di pietà qui ancora niente passaggio a livello quindi i binari sono questi qua è inaccessibile e allora giù ok binari qual è la sorpresa per ora niente per ora ok questo ne ha 5 e questo ne ha 5 quindi non serve cambiare col piede di porco anche perchè più o meno i danni che infliggono sono più o meno gli stessi quello bello era l'ascione delle iene ma di iene per ora non se ne sente parlare infetti prigionieri che sono sembra vero non è che lo è piano 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 impegno e con fatica anche il culo diventa fica big cheat frecce freccia più non posso qui che c'è esplosif trappola esplosiva dovrei cominciare a usarla ragazzi non ho ancora messa in atto finora ma dovrei veramente ovviamente non si passa ciao poveraccio poveraccio ok sono parecchi qui non doveva proprio far esplodere quel tipo di proiettili però che palle è merda davvero chi lo dici munizioni addirittura 10 bene così tu mi stai disturbando non devi prendere me devi prendere gli altri via ho fatto una cazzata liberarti ho capito però non capisco perché mi ha automaticamente selezionato le le cartucce esplosive che due coglioni però te ti piglio così vieni qui oh ancora molto avvincente però devo essere sincero è molto avvincente ma sei solo fra sei solo se non esplodeva il coso raga se mi dava le frecce giuste quelle servono contro gli infetti non contro le persone normali poi normali non sono però dettagli è zitto che ci fai col martello là sotto chi c'è rimasto te perfetto dove ti devo venire a prendere dimmelo che così mi organizzo qui c'è un talo da lavoro ma nel momento di usarlo eccoti qua eccoti qua eccoti qua ecco te certo se non saliva io potevo ucciderla prima vabbè a volte il suo gioco sbarella un pochino va detto vero pezzi uno credo che qua ci sarà veramente poco da fare l'ultimo tavolo non porterà granché vero 51 oddio volendo forse 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 stabilità quanto vogliono 60 possibile ok stabilità di revolver forza peccato che non ci sia da poter potenziare il mitra era molto comodo ragazzi questo lo cambiamo asse di legno non mi fido mi fido mica io intanto diamo un'occhiata qui poi vediamo straccio alcol molotov viene a noi non adesso però tempo al tempo tutte ste munizioni perché spiegamelo per favore che io soffro d'ansia soprattutto sto gioco qua qua qualcosa pareva brillare ma non era così alcol chiuso sì ok meglio così almeno posso esplorare questa casa senza problemi ok ok incazzo cambiamolo assolutamente si sa mai qua nulla se stiamo trovando tutti questi potenziamenti vuol dire che manca parecchia alla fine del capitolo voi lo sapete meglio di me in questo momento qua stranamente ma è così qua usciamo ok oh cazzo ancora posso prenderti? fuori uno premio munizione di pistola ok c'è uno là e uno laggiù scusa ma dov'è ok laggiù cambia arma con le cose con le cose normali però preso pieno cazzo cazzo quanti sono eh mo' è tosta Matteo veniva da lì Matteo ciao Matteo merda merda randa kit medico kit medico al volo proprio ok però siamo salvi le domande non c'è c'è terza come cazzo ho detto non lo so però ok vieni fuori cazzo vado prima a lui oh merda sono una morsa altro kit medico meson altro kit medico veloce ok ce la faccio a fabbricarne uno sì fammelo fabbricare per forza ti prego oh grazie testa preso dove sei là c'è l'infetto mica ti vedo sai vai a prendere loro va vai a prendere loro ormai che ti ho fatto un favore va ci sono dei clicker e c'è anche qualcuno lì vieni che ti piglio vedo di averla e sono nella merda qui eh bello affare bello affare bello affare raga questa mi pare anche abbastanza vicina sono in due pareva ok buona zitta via via un'altra già vieni qua non ci viene uffa chi è che mi ha visto che cazzo ha fatto faccio io sempre di male in peggio ragazzi eh grazie per il dardo quelli sono clicker quindi di esseri umani sani se così si può dire ce ne sono ancora due non vedo un cazzo amici super cheat qua sarebbe consono fare così neanche morta morta ember ember non c'è più dobbiamo fermarla eh però se non ti avvicini zio io posso far ben poco nessuna traccia di lei non l'ha trovata nessuno qui non c'è niente bella merda sono tre bene così bene così forse lo fico teo mi perlustrazione sì vado bello come l'ho preso ma come l'ho preso raga è andato lassù il bastardo vedi ecco perché l'ho perso di vista altri due bastavimi di prima no eh bastavimi addirittura l'ascione c'ha che bello quando me lo darai ottimo vai sceso dall'olimpo quell'altro è sceso ok o di l'ascione l'ha sempre i clicker però posso fare una cosa è certo che posso farla è certo che la faccio che fai te ne privi no che non te ne privi l'alcol l'alcol l'arco è proprio la salvezza ragazzi vieni qui fuori a posto che belli bello mappa la call of duty ma è bello ok quindi se il nel coso del lancio nelle tre barrette quella più bassa è sulla testa o sul cuore muore perfetto non mi chiapi più i clicker legati sono bellissimi per meno di sotto ti ho attirato adesso vediamo quel che succede merda vieni qua fuori quanti ce n'è più uno spero fuori anche te via non esisti più eh è arrivata prima lei sono in due ed è meglio togliersi dai coglioni sono in tre neanche in due in tre merda ricarica ma te anche questo si chiamava è tornato da quella parte ok ok ti vedo prego giro di qui fuori dove sei laggiù ok finiti vi prego dai no basta vi prego pietà per la vergine maria non si fermamo tranquilla micca quanti oggetti che mi sta regalando che è tutta questa questo apprezzamento nei miei confronti mi sta dando tutto quello che non mi hai dato nel corso della storia chiedo gentilmente pure se ci fosse una carestia mi mandassero dei pompelmi io morirei di fame perché fanno veramente schifo non so voi ma io ne mangerei mazza da baseball e sapete per chiudere in bellezza io cosa faccio quasi quasi faccio questo prendo queste dove sono i clicker laggiù non ha funzionato ok come non detto giù per le scale allora prendiamo dato che abbiamo tempo e spazio il mitra fitte le munizioni che palle senza testa viaggio uguale incredibile fuori uno e fuori due qualcuno ha qualcosa no dovremmo essere non dico sane e salvi però non mi dispiacerebbe fossimo a posto ecco alcune energie qua cosa c'è tutto inutile qua c'è un cancellino che sarà chiuso sicuramente quindi è accessibile dalla parte superiore quindi potevo anche evitare di tornare giù e ammazzare i clicker il grande adri però sapete che c'è chill siamo nel finale un po' di di pepe alle cose ci sta ci sta ancora non è un'ottima idea via 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 meno male erano finiti via 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 adesso non più si è nascosta lì che affare che affare però raga finisce più un finisce più in testa te lo sei meritato urido coglione te lo sei meritato 10 munizioni mitra 6 munizioni mitra quindi possiamo fare il cambio ricarica è buona dopo andassi qui coraggioso da parte mia sono in due in tre con quello perché potrei fare una cosa tipo questa oh l'ho incendiato miracolo zack è morto zack è morto via 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 e le palle proprio perfetto ridotta al minimo la sua virilità ma sto proprio pallato così mi pigli ok bastarda che affare e raga non finisce più non finisce più non finisce più perché ho perso il momento non trovo niente morta ok un altro fuori altre munizioni mitra ecco c'è una precisione oggi col con l'arco che è devastante proprio sparito il corpo sparito il corpo ok fabbrica ok sono altre persone in meno però non sono finite qui c'era anche oggetti da lanciare che roba e fermati dai fuori bello respira no ancora altro soldato a te eccola è nostra vedo che succede che pazienza mi ci vuole raga bello l'ha frittata ho fatto bellissimo raga l'ha frittata merda scappa non ha ricaricato merdaccia umana poi è una cosa che a clove duty tipo ti frega tantissimo tanto lo so che sei lì che siete in tre ancora in quattro vieni ok furtivo perché mi hai cambiato arma basta quest'arma ha sparato anche troppo va dosata con cura altrimenti è inutile scherzi col fuoco zio anche te un'altra arma potrei prendere anche il mitra adesso 19 sono buone questo angolo qua è micidiale Matteo ciao Matteo altri due che cos'è sta roba basta vi prego scappa finisce più finisce più finisce più kit medical posso fare sì ancora cioè questo è l'ultimo in realtà sono esausto c'ho più le forze raga negativo però quello l'altro soldato ha funzionato ok finiti ok la musica si è calmata quindi potrebbero davvero essere finiti qua ce n'è altre alcool bene così dentro un altro alcool c'è un altro kit medico sorry questa è paro paro la battaglia dentro l'ospedale di derasto fase 1 paro paro ragazzi quella lunga infinita ed estenuante battaglia però sinceramente a quello ho preferito questa questa è veramente la coronazione di quando fai un bel gioco e non solo fai un bel gioco ma fai un bel sequel raccontando una storia tutta diversa complimenti la naughty dog adesso che siamo praticamente in fondo possiamo dirlo però voglio tenermi tutte queste parole per dopo anzi per dopo per la prossima volta quando faremo finali ed epiloghi vari eh ormai chi ci mette il coso è inutile c'è più nessuno qua senza la modalità ascolto ragazzi saremo stati inculati diverse volte i prigionieri ultimo sforzo Ellie ultimo sforzo ultimo sforzo chieto nell'occhio grandi bravi i fuzili veloci tieni ok coraggio andiamo ehi fermi dove è Abby l'hanno morsa indietro ehi abbassa quella cazzo di arma ehi 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 Abby è scaffata è giù ai pali hai pali? scendi in spiaggia non puoi sbagliare tanto sarà già morta o forse no andiamo forza dai che sei al sicuro dai grazie